benvenuti sul canale youtube di italia medievale oggi abbiamo il piacere di avere con noi un personaggio che definirei poliedrico si tratta di mario prignano che ha pubblicato con l'editrice morcelliana giovanni ventitresimo l'antipapa che salvò la chiesa 526 pagine a 35 euro e direi che come mia abitudine di solito non perdermi tanto in chiacchiere ma lascerei subito la parola al nostro consigliere del direttivo giuseppe bianchi per introdurci a questa interessante lettura prego giuseppe grazie maurizio un saluto a tutti i nostri ascoltatori e utenti un saluto a mario prignano che proprio poche righe in breve di bio giornalista e saggista caporedatore centrale del tg1 ha scritto il giornalismo politico e in ambito proprio storico che è quello che ci interessa ha scritto urbano sesto il papa che non doveva essere letto e libro che presentiamo oggi giovanni ventitresimo l'antipapa che salvò la chiesa allora al di là della curiosità che è più di una curiosità che riguarda il primo libro urbano sesto al secolo bartolomeo prignano diciamo che era un antenato di famiglia della tua famiglia di mario prignano ma sicuramente a te piacciono i titoli un po provocatori un po giornalisti perché da un papa che non doveva essere letto a un antipapa che salva la chiesa diciamo che in dieci anni dal tuo primo libro a questo di nuovo hai risolto uno scisma questo grande scisma d'occidente che ha spaccato la cristianità diciamo occidentale per 40 anni e si nasce questo secondo libro dopo forse volevi chiudere lo scisma che avevi aperto con urbano sesto mi sentivo in colpa no la verità è che ovviamente per urbano sesto la molla è stata la curiosità di conoscere un personaggio di famiglia di cui ho sentito parlare fin da bambino e un abbinata una passione per la storia che non è molto dissimile dalla passione per il giornalismo visto il lavoro che faccio e ha fatto sì che appunto mi occupassi un sì sono passati giusto dieci anni dieci anni fa di urbano sesto dopodiché che è successo che la storia mi ha preso urbano sesto un personaggio particolare tra molte virgolette maledetto nel senso che è quello che nonostante tutto nonostante lui stesso da la stura quello che poi è passata la storia come lo scisma d'occidente e parlando incontrando conoscendo confrontandomi con persone che ne sanno molto più di me perché fanno il mestiere che a me forse piacerebbe di più fare cioè quello dello storico in effetti e ho scoperto che questo questo scisma nato per colpa tra virgolette di un papa legittimo che aveva che ha avuto una parte di responsabilità e nello scoppio dello scisma in qualche misura si è risolto per merito paradossalmente di un antipapa e la storia è la storia della chiesa che procede è la storia insomma che procede secondo percorsi non sempre lineari non sempre decifrabili e che ci sorprendono in continuazione sta di fatto che questo antipapa che già dal nome così suscita curiosità interesse e qualche aspettativa giovanni ventitresimo in effetti fu un papa definiamolo così perché al tempo era tale era considerato un papa potente che aveva molto consenso poteva contare su molto consenso e molto potere molta influenza presso le corti europee e che però e poi dopo molti secoli solo con roncalli di fatto è stato definito antipapa è stato roncalli che prende assumendo il suo nome lo ha così confinato nel limbo degli antipapi però ha avuto un merito ha avuto il merito di convocare un concilio importantissimo a costanza che tutti gli storici conoscono naturalmente nel 1414 che risolse lo scisma un concilio al quale lui pensava di andare per essere riconosciuto legittimo pontefice di fronte agli altri due rispetto agli altri due rivali non gli andò benissimo però comunque ebbe questo merito forse inconsapevole secondo me forse anche no di andare lì e di farsi deporre insomma al culme di tutta una serie di colpi di scena veramente degni di una sceneggiatura di un grande sceneggiatore ecco di un grande sceneggiatore c'è qualcuno lassù che sa scrivere che fa questo di mestiere che ci riesce sempre bene e alla fine è risolto la questione si è risolta in qualche modo quel detto che riguarda conclave chi entra papa in conclave non è eletto e chi entra papa come ha fatto il nostro giovanni in concilio ne c'è a lui ne è uscito proprio da niente da non era neanche più prete era un povero disgraziato ma insomma lo vedremo giovanni ventitresimo nato baldassarre cossa e so che tu puoi aiutarci anche graficamente e visivamente nel ripercorrere proprio le tappe di questo personaggio che attraversa degli anni estremamente vivaci sia per la nostra penisola sia per l'Europa che poi arriveranno appunto nel culmine del concilio di costanza questi anni in cui l'Italia vede Milano che per una crisi dinastica per una la morte del del duca va in crisi e rinasce proprio in quegli anni quindi torna a una politica espansiva a Firenze che proprio minacciata da Milano riesce a riconquistare l'egemonia almeno in Toscana a Venezia che incomincia la sua espansione in terraferma quindi apre un altro fronte oltre a quello marittimo in oriente e poi a Napoli che poi è diciamo il regno in cui nasce il cossa che vede proprio un secolo cioè dal 1348 c'è la peste e scoppia anche la grande crisi dinastica tra i vari rami di degli angioini e poi subentreranno anche gli aragonesi questa questa guerra infinita ecco proprio in questo regno di Napoli nasce il nostro protagonista esatto vediamo anche attraverso l'aiuto della grafica come si dice in questi casi esatto allora sì perché io ho preparato un un giochino che mi diverte un giochino grafico che mi mi diverte sempre molto usare che è questo si chiama è una story map spero di riuscire a condividere lo schermo eccolo credo che lo stiate vedendo l'ho intitolato il viaggio di un antipapa Giovanni XXIII il pirata che salvò la chiesa è come dicevi tu Giuseppe all'inizio un paradosso naturalmente quasi uno simoro perché un antipapa che salva la chiesa non non esiste un pirata che fa il papa che pretendi essere papa che poi diventa antipapa e salva perfino la chiesa peggio mi sento come si dice in ogni caso come dicevamo prima la la storia si sa come divertirsi ecco alle nostre spalle come sorprenderci e in effetti questo personaggio che ma questa naturalmente è l'immagine tratta da una stampa seicentesca che ritrae Giovanni XXIII poi scopriremo perché incorniciato da queste catene è molto interessante io poi ci ho aggiunto dei colori ma insomma per farla un po pop diciamo così allora e questo personaggio in effetti come dicevi tu nasce nel nel regno nel regno di Sicilia all'epoca si chiamava ancora così in particolare a Ischia da una famiglia la famiglia Cossa che questo è il castello aragonese di Ischia dove ci sono ancora i resti di una cappella dei Cossa si vede da alcuni affreschi che evidentemente era una cappella fatta erigere da loro dalla famiglia e i Cossa erano di Ischia ma erano signori di Procida e soprattutto da qualche secolo Baldassare nasce verso la nella seconda metà del 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 1300 da qualche secolo esercitavano quella che possiamo serenamente definire pirateria nel senso che avevano il dominio il controllo meglio dei ma del mare davanti a Napoli per diciamo per ordine e sua autorizzazione del dei re di Napoli degli angioini e questo aveva fruttato loro una gran fortuna tanto che eh Baldassare Cossa diventa che era il secondo genito diventa intraprende la la carriera ecclesiastica e diventa in men che non si dica cardinale diventa cardinale nel periodo in cui lo accennavamo prima c'è un grande scisma c'è un papa a Roma e c'è un un papa ad Avignone che fare eh perché ad ogni papa muore se ne muore uno e viene viene letto un altro e quindi lo scisma sembra veramente non chiudersi mai la cristianità siamo alla fine del 1300 eh e nella disperazione più nera disorientamento generale le università i luoghi del sapere non sanno letteralmente che pesci prendere e eh alcuni cardinali l'idea parte dai cardinali romani tra virgolette quindi fedeli a Gregorio XII eh pensano bene di eh contattare i confratelli avignonesi e di insieme abbandonare i due rispettivi pontefici quello di Avignone Benedetto XIII e quello di Roma Gregorio XII chi è l'ispiratore ma soprattutto direi finanziatore e garante politico di tutta questa operazione si chiama Baldassarre Cossa e il cardinale Cossa io a sinistra dello schermo ho segnato come una mappa che ci aiuta a spostarci nei luoghi dove si svolge la vicenda di del nostro del nostro personaggio ecco quindi da Ischia ci trasferiamo direttamente a Pisa dove i cardinali avignonesi e quelli romani la stragrande maggioranza degli uni e degli altri si incontrano per indire un concilio deporre i due ex padroni diciamo così eh pontefici di riferimento e leggerne un terzo è quella che gli storici chiamano la cosiddetta obbedienza pisana ripeto ispiratore e soprattutto finanziatore garante politico davanti alle corte europee soprattutto davanti al re di Francia è proprio Baldassarre Cossa in questo modo viene eletto un papa che si chiamerà Alessandro V il quale però cagionevole di salute anziano qualcuni dicono manovrabile e quindi facilmente gestibile diciamo così fino alla morte non fa che regnare a dieci mesi al termine dei quali a Bologna viene eletto chi il più potente membro del sacro collegio Baldassarre Cossa che in onore del padre decide di chiamarsi Giovanni e quindi Giovanni XXIII questo è un affresco che si trova a San Petronio in una cappella di San Petronio che ritrae Giovanni XXIII mentre concede l'anello episcopale al vescovo di Bologna che per inciso era un personaggio piuttosto molto discusso molto discusso anche al concilio di Costanza insomma venne citato come procacciatore di prostitute cose indicibili ma insomma lasciamo correre ci arriviamo ci arriviamo e insomma quindi ecco quindi Cossa diventa diventa papa e la cosa interessante è che diventa papa ed è sicuramente da subito il più potente dei tre Gregorio XII è sostenuto la faccio breve dal re di Napoli sostanzialmente e da qualche piccolo staterello italiano come per esempio il Rimini il signore di Rimini che era Carlo Malatesta un un antesignano di quelli che poi saranno i principi rinascimentali un un grande condottiero ma anche un grande amante delle arti però è una diciamo è un sostegno minimale benedetto tredicesimo a dalla parte della sua lui aragonese dalla parte sua quindi i regni della penisola iberica tutto il resto l'impero quindi la Germania grossomodo l'Inghilterra la Francia la Scozia Firenze Milano anche se con qualche esitazione Venezia sono con con Giovanni XXIII però però si capisce subito che il problema non si è risolto perché gli altri due ovviamente non demordono cioè fra i due papi litiganti passatemi la battuta il terzo non gode cioè non il problema non si è risolto anzi si è ancora più complicato in ogni caso Baldassarecossa arma un esercito e marcia su Roma caccia su due piedi Gregorio XII e caccia anche il re di Napoli che difende Roma per conto di Gregorio XII questo è una bella e famosa stampa che riproduce l'antica basilica costantiniana di San Pietro nel nella metà del quattrocento e cosa succede che lì per lì caccia appunto Ladislao che teneva Roma per conto del papa romano si insedia a Roma saldamente ma ci sta poco ci sta poco più di due anni perché poi succede che Ladislao re di Napoli definito dai romani le definizioni sono sempre molto colorite sono molto molto divertenti perché noi pensiamo che questi siano documenti polverosi privi di vita privi di di emozioni di entusiasmi di anche di parolacce e invece ci si trova veramente di tutto la serpe è il meno che i romani scelgono come come epiteto per definire il re di Napoli quando proditoriamente decide di decide di tornare praticamente di riattaccare Roma e di riprendersela ci riesce perché i romani lì per lì si lo definiscono la serpe piuttosto mangeremo i nostri figli ma non ci daremo in pasto a quella serpe del re di Napoli eccetera ma appena capiscono dove tira il vento mollano il papa e accolgono il re di Napoli a braccia aperte e questo è una bella un bello acquarello è un un disegno acquarellato di una stampa del quattrocento e di una di un disegno appunto del quattrocento che ritrae si vede poco perché forse un po' piccolino ma comunque che ritrae sulla destra il papa Giovanni XXIII che scappa con i cardinali e sulla sinistra il re di Napoli che l'insegue ha sprombattuto è bello il disegno è molto efficace il re di Napoli che esce dalla diciamo dalla 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 porta settentrionale di Roma perché perché Giovanni XXIII sta scappando in direzione di Firenze Firenze l'accoglie ma è evidente che la di Slao il re di Napoli si sta allargando tantissimo sta praticamente facendo scomparire il regno della chiesa quindi il papa è veramente in difficoltà Firenze accoglie Giovanni XXIII però l'accoglie ma dice sì certo noi non possiamo non darti un aiuto anzi siamo scandalizzati che il re di Napoli si sta comportando in questione però per favore dice accomodati nella residenza estiva del vescovo di Firenze non se non ti dispiace non entrare nelle mura della città perché insomma avevano paura di far arrabbiare troppo il re di Napoli sarebbe potuto vendicare su Firenze il re di Napoli che arriva fino fino alle porte di Siena insomma all'inseguimento di Giovanni XXIII da lì Giovanni XXIII si rivolge al più potente dei sovrani che regnano in quel momento nella cristianità che è il quasi direi imperatore del sacro romano impero Sigismondo dico quasi perché riveste la carica di re dei romani che è quella propedeutica a imperatore sostanzialmente il re dei romani Sigismondo che è un personaggio molto duro un politico accorto ma spietato e Giovanni gli chiede aiuto chiede aiuto a tutti per la verità scrive al re di Francia re d'Inghilterra tutti promettono aiuti a parole Sigismondo gli dice guarda sì ti aiuterò però prima risolviamo lo scisma sembra quasi di vedere Giovanni che gli dice ma risolviamo lo scisma qui c'è quello lì che mi sta alle calcagna mi morde i polpacci per non dire di peggio e tu vuoi risolvere lo scisma prima aiuta no no risolviamo lo scisma naturalmente Giovanni XXIII non è in condizioni di trattare i due si incontrano perché Sigismondo vuole risolvere lo scisma perché il re dei romani carica che lui ricopre diventerà imperatore del sacro romano impero solo dopo essere stato unto dal papa dal sommo pontefice però siccome ce ne sono tre lo scisma va risolto altrimenti addio corona del del sacro romano impero quindi i due si incontrano si incontrano a Lodi vicino a Milano in territorio diciamo fedele a Sigismondo e Giovanni XXIII ci arriva già capendo che dovrà dire di sì a tutto lui spera che questo concilio che lui fino all'ultimo tenta di evitare insomma si possa svolgere almeno in territorio vicino a Roma ecco facciamo Bologna facciamo Firenze facciamo Genova facciamo al limite Avignone che so invece Sigismondo dice no no lo facciamo a Costanza territorio saldamente controllato territorio dell'impero quindi saldamente controllato da da Sigismondo per cui c'è questa bellissima vignetta perché di fatto è una vignetta tratta da una cronaca del concilio di Costanza famosissima di un mercante si chiama Ulrich von Rikental molto ben disegnata in cui si vede sulla sinistra appunto Giovanni XXIII con la sua corte e tutti quanti e sulla destra invece Sigismondo che gli dice c'è il fumetto in alto non credo si riesca a leggere dice padre santo vi piace Costanza e il padre santo dice vabbè andiamo a Costanza che dobbiamo fare questo succede nel dicembre 1413 un anno dopo arriva a Costanza Giovanni XXIII arriva a Costanza e prima ancora di partire qui sto spoilerando un po' questa 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 questo disegno già ci anticipa un po' troppo ma insomma ci arrivo subito per dire ma prima dico che prima ancora di arrivare a Costanza al concilio di Costanza Giovanni XXIII viene avvertito dai suoi diciamo consiglieri più fidati ma ci voleva poco a capirlo in realtà che a Costanza sarà fatto fuori cioè che a Costanza dove lui spera di essere come accennavo prima riconosciuto unico pontefice legittimo in realtà il disegno nascosto ma neanche più di tanto di Sigismondo che è il dominus di tutta quanta l'operazione è quello di far deporre di far di mettere anche di mettere un'espressione impropria di far rinunciare tutti e tre i pontefici di fare insomma tabula rasa e di leggerne uno nuovo possibilmente gradito allo stesso Sigismondo qual è il merito secondo me di il merito storico proprio di Giovanni XXIII di essersi recato a Costanza nonostante i consigli anche un po' interessati dei suoi consiglieri per l'appunto gli dicevano guarda vai lì ma vai lì e poi ti fanno secco lui ci va c'è una un episodio molto molto bello lui con un con un con un suo con un suo amico e confidente Bartolomeo Valori al quale che che gli dice guarda che il lì sarà pieno di nemici lì avrai sarai circondato di nemici di gente che vuole il tuo posto e allora Giovanni XXIII gli risponde sì ma lo so so che non è per me so che vado lì a correre un grande rischio ma io non posso farci niente perché sento che 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 il mio destino mi porta lì è un'espressione che magari è stata forse un po' enfatizzata però che rende molto l'idea perché lui comunque ricevette molti avvertimenti che avrebbe rischiato andando lì sta di fatto che va lì e la prima cosa che gli chiedono di fare di rinunciare ovviamente lui prova a resistere però poi capisce che non non ha alternative forse forse lo desidera perfino nel momento in cui lui con un pizzico di sincerità dice di desiderare davvero l'unità della chiesa naturalmente dice io rinuncio al pontificato però lo devono fare anche gli altri due e i parri conciliari insomma i suoi stessi cardinali che non vedevano alternative se non se non alla rinuncia di tutti e tre gli dicono d'accordo va benissimo chiederemo anche agli altri di rinunciare tu però intanto rinuncia lui per tre volte promette che rinuncerà alla tiara poi succede qualcosa succede qualcosa succede che lui la mia convinzione è questa ma nel libro spero di essere riuscito a documentarlo perché un punto secondo me centrale diciamo della vicenda di questo personaggio succede che lui capisce si rende conto che effettivamente vogliono farlo fuori comincia a dire a chiedere se per caso il sigismondo e chi sta con lui non vuole farlo fuori come successe a celestino quinto era passato poco più di un secolo dal dalla rinuncia di celestino quinto e dal suo imprigionamento nel castello di fumone e dalla sua morte morte dovuta secondo quello e si pensava allora al suo successore bonifacio ottavo quindi lui comincia a avere veramente paura di far la fine di celestino quinto e allora da qui l'ignobile fuga approfittando di un di un torneo che si svolge in una pausa del concilio a costanza lui travestito da da balestriere fugge con un attendente questo è un è un bellissimo quadretto se non sbaglio anche questo tratto dalla dalla cronaca di ricenthal che lo ritrae appunto mentre scappa e così via scappa e naturalmente viene riacciuffato dopo qualche settimana ci vuole poco lui scappa in direzione della foresta nera ci sono tutta una serie di inseguimenti di di episodi anche molto divertenti purtroppo perché raccontati nei dettagli più minimi da chi per conto del concilio era incaricato di seguirlo di inseguirlo e ci sono dettagli che magari allo storico diciamo di professione giustamente interessato diciamo sia analizzare a studiare le vicende in profondità però non non interessa perché certi dettagli e invece ci sono certi dialoghi certe espressioni certi certi aneddoti anche che vengono riferiti da testimoni oculari molto divertenti che io mi sono divertito a raccontare quindi delle cronache molto vivide tutt'altro che ammuffite in carta pecorite in cui veramente anche un pubblico moderno può trovare degli degli spunti piacevoli divertenti ma anche dei temi molto attuali come quello delle fake news e qui apriamo un capitolo che anche per un giornalista di livello come come te può può dire che non sono nate oggi o ieri no 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 hanno qualche almeno qualche secolo di vita beh si dice di solito che la prima fake news o la più importante la più famosa fake news della storia sia stata la donazione di costantino questo è venuto diciamo sono venute un po dopo ma effettivamente succede che durante il processo a cui viene sottoposto baldassarre cossa gliene vengono dette di ogni perché qual era il problema il problema è che tuttora un papa può essere considerato non papa soltanto se è eretico cioè il papa eretico e non è papa fine il problema è che lui l'eresia le aveva combattute cioè lui aveva tanti difetti ma non quello di essere eretico e allora come lo facciamo fuori e allora qui io ci ho scorto veramente la mano di sigismondo che era molto presente e con i suoi emissari coi suoi consiglieri con le sue spie nelle sedute del concilio negli incontri fra i padri conciliari laddove i padri conciliari sentono di dover spingere sull'acceleratore di accuse nei confronti di questo cossa che sicuramente partono da un fondo di verità ma che per forza devono diventare addirittura esagerate proprio impossibili da difendere viene viene accusato di essere di essere di essere pedofilo viene accusato di essere di avere non solo donne ma anche di aver avuto rapporti omosessuali viene accusato di essere stato un tiranno sanguinario viene accusato di aver avuto simpatie musulmane perché lui era ischitano e quindi a un certo punto si alza uno durante il processo un vescovo e dice sì ma tutti lo sanno che lui aveva degli antenati saraceni addirittura c'è uno un vescovo ungherese che dice ma io lo so ah no l'arcivescovo di milano dice io ho sentito che lui non crede nell'immortalità dell'anima e un vescovo ungherese ci mette il carico da mille dice ma lo sanno tutti che i napoletani non credono nell'immortalità dell'anima insomma un papa così quindi accusano Baldassare Costa di ogni nefandezza possibile immaginabile per poterlo dichiarare come io ho virgolettato qui indegno quindi inutile e soprattutto dannoso per la chiesa succede quindi che alla fine di maggio del 1415 dopo due mesi e mezzo dalla sua fuga viene deposto a forza dal concilio è molto carina mi dispiace che forse la definizione non è alta di questo di questa di questo disegno che ho riportato qui ma è molto carina questa immagine perché si vede il concilio di Costanza all'interno del quale ci sono riuniti i congregati di tutti i pari conciliari che che hanno in mano tutti spingono una sorta di pertica che butta fuori letteralmente quella figurina rossa sulla sinistra del disegno butta fuori dal concilio letteralmente il papa quindi lo precipitano fuori dal concilio quindi fuori dalla cristianità perché il concilio il concilio evidentemente rappresenta la cristianità tutta intera c'è da dire che insomma la paura di far la fine di celestino ma si può capire che se Gismondo non ispirasse fiducia anche perché chi si è fidato di lui anche chi ha avuto dei lasciapassare poi a quel concilio mi sembra che non abbia fatto una bella fine mi riferisco a il passaggio che hai fatto di Janus esatto sì Janus poveretto quella è un'altra storia è una storia parallela ma molto affascinante che io non ho resistito per i motivi che dicevo prima perché è raccontata troppo nel dettaglio con dettagli troppo gustosi non ho resistito l'ho dovuta raccontare nel libro volendo si può anche esaltare ma insomma in ogni caso è molto molto interessante molto drammatica Janus era un era stato a un certo punto anche rettore dell'università era un teologo rettore dell'università di praga che però sosteneva posizioni decisamente eretiche in buona sostanza martin lutero cent'anni prima di martin lutero ecco questo è un po il succo ed era veramente infervorato tant'è vero che lui il suo grande desiderio era quello di andare a costanza e difendere le sue le sue tesi il re dei romani sigismondo è vero gli concede il lascia passare però poi quando perché dico subito come va a finire Janus viene arso sul rogo a costanza poche settimane dopo la deposizione di di giovanni ventiresimo però quando poi Janus se la passa male e i partigiani di us dicono al re ma come tu gli hai dato il lascia passare sigismondo alza le mani e democristianamente dice ma il mio lascia passare riguardava solo il viaggio poi qui naturalmente io non comando come non comando ti pare che non aveva influenza Janus sul concilio dico sigismondo sul concilio di costanza voglia che ce l'aveva quindi se avesse voluto però dice no il mio lascia passare riguardava solo il viaggio per cui ti ho fatto venire qui e poi e poi la volontà del concilio e la volontà di dio quindi e quindi vattene al rogo infatti la pagata cara con le guerre ustite però poi e devo dire che lui aveva capito sigismondo che che us aveva capito sapeva che us aveva un seguito pazzesco nella sua terra in ungheria e e quindi anche per il nazionalismo che si sommava all'eterodossia diciamo che c'era anche la componente boema certo in cecoslovacchia scusami un po' come poi l'utero e un po' come poi l'utero la nazione tedesca antiromana diciamo quindi ci sono anche delle situazioni che si incrociano e aumentano a vicenda assolutamente sì e mentre succede tutto questo ecco mentre succede tutto questo mentre per inciso il concilio va avanti e come si sa insomma risolve lo scisma perché dopo la deposizione di di giovanni venti tressimo un mese dopo rinuncia gregorio dodicesimo il papa romano quindi diciamo spinto dai pari conciliari ma insomma quel punto è facile uno già era stato fatto fuori quello più potente quindi gregorio dicesimo rinuncia benedetto tredicesimo pedro de luna rigorosissimo e coerente non non solo non rinuncia ma proprio fa un verrebbe da dire marameo al concilio di costanza e rimane fino all'ultimo dei suoi giorni tetragono e certo del suo essere vicario di cristo dice io addirittura questo è spettacolare perché fa capire che questi personaggi poi non erano sì saranno anche stati assetati di potere quel che vogliamo però erano soprattutto erano soprattutto coerenti allora benedetto tredicesimo dice io voi mi chiedete di dimettermi ma io se lasciassi la tiara se lasciassi se scendessi dal trono di pietro cristo dovrebbe incarnarsi una seconda volta e scegliere un nuovo vicario perché io sono il suo vicario io sono io vengo dopo pietro quindi cristo dovrebbe incarnarsi una seconda volta nel mondo scegliere un altro e da lì ricominciare quindi io non mi chiedete non mi chiedete più lasciatemi perdere e infatti lo lasceranno tutti a certo punto lo lasceranno perdere lui morirà quasi centenario da solo in un paese sperduto dell'arragona di dove lui era originario mentre succede tutto questo patatrac che però alla fine riunifica la chiesa perché appunto come si sa nel 1417 poi viene eletto finalmente il papa e diciamo universalmente riconosciuto fatti fuori tutti e tre e cioè martino quinto il nostro è sempre in prigione è sempre in prigione peraltro nel palatinato quindi in una terra lontana dove chi lo guarda a vista non parla latino figuriamoci il volgare italiano quindi lui racconterà che era costretto a esprimersi a gesti in un'ancella angusta lui era un omaccione alto e grosso con un letto dove era costretto a piegare le gambe per entrare insomma se la sta passando veramente male e chi è che dopo quattro anni nel 1419 martino quinto sta regnando felicemente come si dice questi casi universalmente riconosciuto ormai da due anni e lì e chi è che si ricorda che c'è questo poveraccio che marcisce in prigione non il papa non uno dei magari dei suoi cardinali non so qualcuno che non un vescovo che lui aveva beneficiato ma un banchiere un banchiere che risponde al nome di giovanni di bicci dei medici il padre di cosimo il bisnonno di lorenzo il magnifico ecco per intendersi per fare un altro riferimento che altri ancora potranno capire meglio dustin offman della serie dei medici ecco giovanni di bicci dei medici era grande amico di baldassarre costa ma amico sincero aveva fatto moltissimi affari con sotto il suo pontificato ed era diventato straricco e molto potente ma insomma è un amico sincero perché comincia a rompere le scatole in maniera martellante le scatole di martino quinto per dirgli vabbè adesso tu regni felice la cristianità è riunita siamo tutti più sereni ma vogliamo tirare fuori di prigione quel poveretto che sta marcendo lassù dimenticato da dio e dal mondo a venezia per dire erano convinti che fosse morto quindi insomma non si avevano più sue notizie da anni e il papa martino quinto all'inizio qualche dubbio perché dice sì vabbè lo tiriamo fuori di galera ma e se questo ci fa un altro scisma e insomma però poi alla fine viene convinto perché ci sono alcuni cardinali più vicini a l'ex papa che che gli da gli offrono garanzie insomma alla fine martino si convince però dice a giovanni dei medici vabbè ma se c'è da pagare un riscatto io non voglio tirar fuori un quattrino per cui giovanni dei medici è molto bello leggere le lettere di appunto di giovanni dei medici che fa la questua fra tutti quelli che erano stati beneficiati da da cossa e a un certo punto però è costretto a riconoscere che come si dice la riconoscenza non è una virtù che in politica nella chiesa come altrove insomma è spesso praticata e quindi i soldi ce li mette praticamente tutti quanti lui e paga il riscatto e libera e libera giovanni ventitresi l'ex giovanni ventitresi ormai solo baldassarre costa non era più nessuno qui ho ritratto ho ripreso il ritratto di giovanni dei medici custodito alla galleria degli uffizi e poi sullo sfondo ho messo mi sono preso lo sfizio di di riprodurre un documento inedito che è il lascia passare prima parlavi di lascia passare di sigismondo per ianus questo è il lascia passare inedito che io ho pubblicato però di sigismondo per baldassarre costa perché naturalmente siccome si trovava in palatinato dove attraversare le terre dell'impero per per scendere fino a firenze in particolare dove si trovava in quel momento martino quinto quindi baldassarre intraprende questo viaggio avventurosissimo pieno di colpi di scena e di gialli perché a un certo punto scappa di nuovo viene inseguito ne succedono di ogni ma non racconto tutto se no facciamo notte e poi nessuno compra più il libro insomma succede che succede che succede che baldassarre costa un bel giorno arriva a firenze arriva a firenze nel momento in cui martino quinto sta presiedendo un concistoro pubblico martino si trova a firenze perché di ritorno dal concilio di costanza roma non è ancora diciamo praticabile è occupata ci sono soliti disordini eccetera e quindi lui ha la curia a santa maria novella nel convento di santa maria novella in questo grande salone purtroppo non esiste più perché è stato stato distrutto ha avuto varie vicissitudini in questo grande salone martino sta presiedendo il suo concistoro pubblico il testimoni oculari dicono che era difficile passare da una parte all'altra del salone per quanta gente era presente quel giorno lì parliamo di un salone che era lungo più di 50 metri e si concludeva con su un lato c'era ovviamente un'estremità del trono di martino martino e lì a un certo punto sul sul fondo della sala dove c'è l'arco della porta d'ingresso compare questo personaggio vestito come vestito di stracci perché non è più niente non è più nessuno a un certo punto è impressionante come i testimoni oculari descrivono la scena con la gente che piange e alcuni anche di questi che raccontano quello che succede confessano di essersi commossi perché nel silenzio generale improvvisamente come fosse il mar rosso si apre in due la folla e per lasciar passare questo personaggio che immediatamente tutti riconoscono per essere il predecessore del papa regnante naturalmente a quel punto cossa si inginocchia ai piedi di martino gli professa obbedienza e tutti piangono questa scena viene questa questa scena che io ho riportato qui è tratta da un codice del del di quegli anni proprio del 1419 1420 scritto da un da uno studente di udine che studiava legge a firenze e molto ben illustrato e devo dire che questa scena rende perfettamente l'idea insomma di cossa vestito miseramente qui c'è anche la chierica non so se ci avessero fatto anche la chierica ma insomma comunque ai piedi di martino quinto e perché lo chiamo l'abbraccio perché è impressionante che dopo quattro anni appena dopo quattro anni quando l'allora pontefice era stato accusato di tutte quelle nefandezze il pontefice suo successore perché naturalmente giovanni ventilesimo veniva considerato legittimo decide di accoglierlo di riaccoglierlo nella chiesa non solo ma tra qualche mugugno questa volta lo crea perfino cardinale lo crea cardinale nel giro di dopo una settimana il giorno di san giovanni il 24 giugno festa del patrono di firenze e i fiorentini impazziscono i fiorentini impazziscono di felicità successo una cosa miracolosa firenze il centro della cristianità eh l'unità della chiesa viene celebrata festeggiata figlio il prodigo anche di tutto di tutto e di più eh tra l'altro poi a questo happy end fa il seguito diciamo la land la fine del povero cossa perché resiste ancora per così dire qualche qualche mese qui siamo appunto alla fine di giugno del 419 il 27 dicembre di quello stesso anno muore sempre a firenze e eh donatello gli erige un sepolcro meraviglioso eccolo qua che si trova tuttora eh nel battistero di san giovanni chi paga le spese ingenti per la costruzione di questo sepolcro eh eh realizzato da donatello e da michelozzo giovanni dei medici per questo dico che era sarà stato anche un banchiere però anche i banchieri hanno un'anima no come si dice per parafrasare una celebre commedia e perché evidentemente non aveva non aveva niente da ricavarci eppure ha speso un sacco di quattrini per per creare per consentire a donatello di creare questo capolavoro veramente un capolavoro che rimane lì e che ci interroga ancora su questo personaggio che per tantissimi secoli come dicevo prima fino alla metà del novecento è stato considerato quasi unanimemente legittimo poi anche lì c'è stato un piccolo colpo di scena infatti dicevo adesso intanto è affascinante ulteriormente questo periodo perché è il terreno fertile in cui da qui a tre lustri verranno fuori i medici da banchieri diciamo increscendo anche a leader politici di Firenze quindi diciamo che è lì che inizia diciamo la loro la loro parabola sì è proprio così d'altro lato abbiamo come si sparafrasando un modo di dire contemporaneo un antipapa è un papa che non ce l'ha fatta ecco quando è che questo papa discusso abbattuto diventa antipapa ufficialmente quello che stavi quello che stavi diciamo per anticipare e c'è una data precisa in effetti mi è molto incuriosito questa cosa fino al 1946 l'annuario pontificio nell'elenco dei sommi pontifici riporta dopo eccolo qua ve lo faccio vedere ecco qua urbano sesto bonifacio nono innocenzo settimo vabbè inutile fare l'elenco del telefono ma insomma fondamentalmente come si può vedere qui in basso c'è alessandro quinto e poi c'è quel giovanni ventiduesimo o ventitresimo ventiquattresimo insomma l'ordinale non era poi così così sicuro in ogni caso come si legge sopra serie dei sommi pontifici ecco questo è l'annuario pontificio 1946 improvvisamente nel 1947 quel giovanni ventidue ventitre o ventiquattresimo scompare perché per responsabilità di questo papa che c'è sulla sinistra della foto e cioè paolo sesto paolo sesto giovan battista montini era sostituto della segreteria di stato nel 1946 e fu lui a chiedere al pontificio comitato di scienze storiche in quell'anno di fare un po di ordine nell'elenco dei papi perché fino a quel momento l'annuario pontificio che ricordiamolo in ogni caso non è un diciamo un documento ufficiale non fa testo come documento ufficiale però ha la sua importanza e il suo peso naturalmente perché fotografa la chiesa in quell'anno fino a quel fino al 46 l'annuario pontificio aveva riportato nell'elenco dei sommi pontifici né più né meno che quelli che sono riprodotti chi non non lo sa tutti sappiamo sono riprodotti nei medaglioni i famosi medaglioni di san paolo fuori le mura e lì c'era anche giovanni ventitresimo e quindi perché non metterci anche lui però insomma montini incarica il pontificio comitato di scienze storiche di indagare e il pontificio comitato di scienze storiche decide di espungere la figura di giovanni ventitresimo dopo aver fatto le opportune verifiche di carattere storico sono fondamentalmente due le fonti su cui si basa il pontificio comitato di scienze storiche per dire giovanni ventitresimo è un antipapa e sono liber pontificali se non sto a farla lunga però è la fonte principale delle biografie dei papi fino al diciamo al basso medioevo insomma fino al medioevo ecco e poi la gerarchia cattolica di parerle dei primi del novecento messe insieme le informazioni provenienti da queste due fonti molto qualificate e paolo sesto diciamo così no paolo sesto scusate montini decide di licenziare l'annuario pontificio senza senza i nomi di tre che che fino a quel momento erano considerati legittimi e da quel momento in poi non lo saranno più e cioè un felice secondo che era stato papa nel nel quarto secolo però sparisce anche lui dall'annuario pontificio questo alessandro quinto che era il predecessore immediato di giovanni ventitresimo è lo stesso giovanni ventitresimo poi succede ulteriormente che nel 1958 arriva un signore che si chiama roncalli e ci mette come si suol dire la pietra sopra dice no giovanni ventitresimo sono io e da quel punto da quel momento lì la questione è definitivamente chiusa e sì perché fino a quando roncalli non dice io sono il ventitresimo va chiarito che però qualche qualcuno ancora sospettava che quel cossa di 600 anni prima fosse fosse legittimo nonostante l'annuario pontificio invece roncalli ci mette appunto mette la parola fini sulla sua storia però mi pare che l'ho già detto roncalli stesso volle ammettere volle riconoscere e questo da se mi consentite anche una qualche soddisfazione al sottoscritto volle riconoscere che cossa sì giovanni ventitresimo sì era un antipapa ma ebbe il merito disse roncalli di convocare il concilio di costanza che fu quello che poi risolse lo scisma all'interno della chiesa e riportò l'unità nella cristianità quindi cioè onore al merito dopo tanti anni posso dire che la tesi mi ha convinto un libro assolutamente da leggere quindi io ricordo ancora una volta il titolo così non ci sono dubbi giovanni ventitresimo l'antipapa che salvò la chiesa di mario prignano pubblicato dall'editrice morcelliana 528 pagine per 35 euro e siamo sotto le feste che dobbiamo passare in casa cosa c'è di meglio che acquistarsi un bel libro da leggere e in modo da approfondire e conoscere questo racconto così intrigante che ci ha fatto mario questa presentazione ecco grazie raccolgo visto che siamo siamo in casa quando non dovremo più stare in casa posso chiedere a mario la promessa che verrà a milano a raccontarci dal vivo di nuovo questa bella storia magari 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 potessi un augurio sì esatto ce lo facciamo ce lo facciamo così ce lo facciamo così va benissimo a fare fatto appena finisce questa 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 tragedia ecco ci vediamo a milano molto volentieri molto volentieri bene allora io ricordo di continuare a seguire italia medievale attraverso il nostro sito www.italiamedievale.org dove trovate anche tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato da quando è iniziata la pandemia e non posso che ringraziare mario prignano e giuseppe bianchi per aver contribuito a rendere questa presentazione così interessante e molto gradevole grazie grazie a voi a presto a presto grazie a tutti